andiamo andiamo speriamo rimanga lì niente ragazzi in poche parole la mia macchina è morta il pandino non va più non va non va dovevamo andare a prendere la batteria nuova perché aveva già il presentimento che stesse andando a f*** lui mi ha detto vai vieni che andiamo all'eurobrico prendiamo una batteria nuova dovevo aspettarla a casa mia ha detto ah lui dice un orario poi ritarda intanto vado verso casa sua sono arrivato a casa sua e lui era lì il pandino non partiva proprio niente adesso ma non parte completamente scarica stavate non parte niente non fa niente dai e adesso stiamo andando con la sua macchina a prendere la batteria nuova si spera di trovarne una con le stesse dimensioni si spera che parta la macchina perché sennò va po' fai qualcosa di serio voglio vedere un video serio capito si dove stiamo andando vi abbiamo già spiegato il problema noi andiamo all'eurobrico per prendere le seguenti cose una batteria un po' di stucco per le mie pareti una bottiglia d'olio una bottiglia d'olio poverino partito si si li tocca caricare batteria questo sarà l'angelo che fa ripartire proviamoci ecco questo è lo stucco l'olio per il Flavio no voglio dire questa batteria ha doppia funzione perché oltre a far partire la macchina può usarla anche come allenatore per i tricipiti per il trapezio e quindi doppia funzione a un prezzo ragionissimo si comunque io non aprirò la macchina finché non smetterò di filmare quindi è meglio che smettano ecco ciao siamo giunti al garage andiamo sai aprirla? si aspetta che no questa non è la chiave aspetta aspetta che eccole come è? questa prima scelta prima qua c'è una sedia sulla scrivania e una bici e un po' di casino Wendy tesoro e boom abbiamo preso l'inoccorrente io inglesi intanto entra qua che poi ti faccio entrare nell'altra ah entriamo proprio si è già posto guarda io mi metterei anche là magari aspetta dove? ah mi metterei là va bene però dobbiamo portare le robe ma se te la porto io ecco vedi ecco 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 fammi scendere prendi la batteria bom questa batteria se n'è andata a fare scusate i termini ma vado a prendere vado a prendere vado a vado a vado a vado a prendere a quali attrezzi qua c'è una cinghia che la tiene ferma che bisogna ammolarla prima il negativo prima il negativo prima il negativo se vuoi rimuovere la batteria devi togliere la cinghietta se togli quello la cinghia si stacca ah questo è un bullone rondellato bullone rondellato cos'è che è? un bullone rollendato bullone rollendato togli sta cinghia oh la questo via ma cosa c***o hai? è questo è giusto provate a dire pensavate magari cosa c***o sta facendo il nick ah da quello ok dai ci vuole la mia mano la mia mano c***o ok mi sembra che sia svitato abbastanza via ecco la cinghia che è cascata boom boom via sta batteria oh la via ovviamente noi sapevamo che la panda non andava ma qua sono proprio uguali sono identiche posso avere l'onore? no 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 boom hai fatto già una cazzata perché è dall'altra questo significa lavorare senza guardare quindi lavorare di merda ecco qua ce l'ha fatta adesso mettiamo sta cinghia c***o dai la metto io porco diga dove che è incastrata? ah si è incastrata giù 2 hours later guardate il dado rondellato guardate la meccanica buono dai base di meccanica guarda direi che posso coprire il mio parco il c***o è zanzale fa zzz c***o della macchina te lo ricordate quindi ok sto lontano adesso si che è una c***o di macchina una vera panda anche per oggi abbiamo eseguito il nostro compito principale che era quello di sostituire questa bellissima questa qua schifosa è tutto direi sono commosso siamo tutti e due commossi perché accendere una macchina con una batteria appena inserita nuova è una roba commovente anch'io non riesco a trattenere le lacrime buon come salutiamo il pubblico da casa guidate piano mi raccomando non bevete sai a prenderlo? si Grazie per la visione!